C'è molta curiosità nel vedere l'approccio a questa partita, perché giochiamo su un campo un pochino irregolare, una squadra affamata di punti, come sapevamo noi di esserlo quando avevamo zero punti, è una squadra che è partita come noi un po' in difficoltà e quindi c'è molta curiosità da parte mia nel vedere una squadra se è matura al punto giusto nell'approcciare la gara. Io voglio l'atteggiamento giusto, voglio assolutamente fare partita, poi ripeto si può vincere, perdere e pareggiare a seconda delle situazioni, ci sono degli episodi delle volte favorevoli e delle volte sfavorevoli, però voglio vedere prestazione. Chiaramente su un campo irregolare così bisognerà trovare anche qualche altro tipo di soluzione dal punto di vista tattico. Beh, dopo questo tour de force, concluso il tour de force, secondo me chi avrà la fortuna di essere un po' più pronto a ricogliere qualche punto sicuramente avrà dei grandissimi vantaggi, perché dopo le squadre avranno tutti quanti la stessa più o meno preparazione, la stessa conoscenza, la stessa competenza, lo stesso modo di agire, hanno lo stesso modo di comportarsi, quindi chi conclude questo ciclo con dei vantaggi anche di classifica sicuramente questo lo porterà ad avere un restante campionato, non dico in discesa, comunque su falsi piani. Io una squadra me la immagino sempre affamata come un branco di lupi che cerca della preda, io vedo questo tipo di similitudine in una squadra di calcio, ci sono delle società importanti in Italia che vivono da sempre con questo tipo di atteggiamento e ottengono dei risultati incredibili, perché alla base c'è proprio questo tipo di mentalità. Vorremmo con la nostra piccola umiltà, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, portare un gruppo di lavoro a giocare un buon calcio, a essere una squadra comunque ricordata che fa un certo tipo di lavoro e ci aspettiamo appunto questo salto di qualità che potrebbe essere molto vicino. Qualcosina ho in mente di cambiare, non grandi cose, però credo che in questo momento qua noi dobbiamo proseguire la nostra idea di calcio e anche guardare il più possibile a chi sta meglio dal punto di vista fisico-atletico, visto che sarà una gara su seconde palle, su un campo insidioso, diciamo che se riusciremo a giocare sul campo avremo qualche vantaggio, altrimenti sarà un pochino più dura. Quindi dovremmo essere molto bravi a sfruttare le seconde palle, avere grande rapidità di esecuzione, tutte queste cose che ci stiamo lavorando.